Un attimo in mano, un attimo in mano, un attimo in mano in mano... In mano, in mano in mano. Tocchi di mano che andiamo a fare, 30 anni. Sì 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 Ci stanno sicuramente con l'� Voi chiamate all'impasto Jacce, oh io 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 Ehhh So, noi vediamo adesso Sono tutti domani qui andiamo con un po' di partizzerre Die hanno venito con un po' di me So, vediamo Bene cosa è? E questo è Tessi, anche il nostro canale. Sì, è Tessi, è Tessi! Sì, è Tessi! È Tessi, è Tessi, è Tessi! Tessi! Tessi, tessi è molto bello con il primo finale. Pottottoni, Pitti, sono anche in regno. Grazie a tutti. Grazie a tutti.